Negli ultimi anni la cucina ma soprattutto la pasticceria si è avvolta molto in campo tecnologico come vedete qua abbiamo una planetaria che ci ha permesso di velocizzare molti tempi e ci ha permesso anche di avere un lavoro molto più preciso e molto più veloce la pasticceria abbiamo molti prodotti da forno che per cuocere hanno bisogno anche di attrezzature adeguate io mi occupo della panificazione ovvero della trasformazione di semplicissimi elementi primari come acqua farina e lievito che può essere di birra o madre in un prodotto tuo almeno io lo chiamo così perché essenzialmente tutto quello che crei con le tue mani è un prodotto tuo un prodotto finito che venderai al cliente e ti darà una soddisfazione veramente immane meno quello è quello che provo io ogni giorno oltre al pane ci occupiamo anche di croissant e anche panettoni a natale colombe a pasqua è un po molto vario esistono vari tipi di farina che sono 0, 0, 0, 1, 2 e integrale ho imparato ad usarli andando a scuola e mi ha aperto veramente un mondo in cucina ci si suddivide in vari settori quindi tra gli antipasti come ai primi come ai secondi per evitare appunto varie contaminazioni per svolgere questo lavoro bisogna avere passione e bisogna che piaccia perché per esempio a Natale sei abituato a divertirti sei abituato a fare a vacanze questo lavoro ti toglie tempo bisogna quindi che piaccia che tu abbia passione e determinazione per questo lavoro vi ringraziamo per averci ascoltato speriamo di avervi incuriosito e soprattutto di avervi dato una mano nella vostra scelta del settore